Gianandrea, tu come hai vissuto questa esperienza con i leader, questo incontro, la preparazione insieme a Marco? Beh, meravigliosamente, nel senso che i leader, la musica e la vocale da camera è sempre stata una delle mie passioni, già ne ascoltavo tanti da bambino e ho scoperto poi questa affinità a cantarli, poi quando ho cominciato a studiare canto e la prima volta che ho aperto bocca davanti al pubblico nel saggio della mia prima scuolina di canto a Cesena è stato proprio con un lead.